il che ci porta inevitabilmente a dover affrontare il tema del rapporto fra tecnologia e controllo sicurezza cibernetica, spazio cibernetico, metaverso come sempre anche in questo caso, e la storia si ripete siamo in una condizione per cui la confusione terminologica il trasferimento di concetti fantascientifici nel mondo del diritto creano delle incertezze che poi rendono difficile capire di che cosa stiamo parlando e dunque quando parliamo di cibernetica parliamo di studio dell'interazione fra uomo e macchina questa cosa, questa disciplina fu inventata, fu fondata, non inventata nel 1948 da Norbert Wiener, un matematico austriaco naturalizzato americano che appunto in cybernetics or control and communication in the animal and machine teorizza il concetto di feedback come strumento di analisi per la replica e la meccanizzazione dei comportamenti questo è il libro che è alla base degli studi sull'intelligenza artificiale Absit Iuri e Verbis da questo libro è nato tutto quindi come vedete a cibernetica con i computer non c'ha niente a che vedere un altro elemento da considerare è there is no such thing as cyberspace cyberspace, cyberspazio, è una invenzione letteraria di uno scrittore William Gibson che alla ricerca di un'ambientazione per far muovere i suoi personaggi che afferivano alla corrente letteraria del cyberpunk quindi un genere fantascientifico che si occupava appunto del che era che ambientava le sue storie nel mondo dei computer e delle reti avendo bisogno di un nome per individuare un punto di contatto fra tutti i suoi protagonisti inventa letteralmente questo termine c'è una sua intervista al New York Public Library tuttora disponibile su YouTube nella quale dice senza il minimo problema mentre guardavo questa parola scritta in rosso su un foglio di carta gialla ero deliziato dal fatto che non avesse nessun significato che il cyberspace, cyberspazio, chiamatelo come vi pare dal punto di vista sociologico e psicologico possa avere un significato credo che sia assolutamente fuori di dubbio pensate per esempio alla possibilità peraltro era una situazione obbligatoria ai tempi di interagire con le persone soltanto via testo mi riferisco all'epoca che per magari molti di voi sarà realmente preistoria dei BBS o dei primi collegamenti internet solamente a carattere della possibilità di interagire con le persone soltanto in modo testuale su chat, su server IRC o via email il risultato qual era? la totale separazione fra la componente fisica esteriore e la componente interiore da questo punto di vista se andate a cercare un bellissimo articolo scritto da uno dei padri nobili dell'internet italiana Giancarlo Livraghi dal titolo L'anima e il corpo capì sul sito Gandalf.it capite esattamente a che cosa mi riferisco quindi dal punto di vista ripeto psicologico questa dissociazione fra la fisicità e la possibilità di interagire essendo qualcun altro borderline schizofrenici si potrebbe dire nei casi patologici è una componente reale ma dal punto di vista giuridico non esiste un cyberspace non esiste una realtà separata non c'è un dominio digitale un dominio reale se qualcuno di voi mi manda adesso a quel paese non lo sta facendo in modo virtuale lo sta facendo sul serio se qualcun altro infastidito da questa lezione buca il mio computer e me lo rade al suolo sta producendo degli effetti materiali non c'è nulla di virtuale in tutto questo il fatto che parliamo di dati di beni immateriali non fa venire meno l'assoluta inesistenza del concetto di cyberspace eppure questo termine oramai dalla fantascienza è passato al giornalismo dal giornalismo è passato alla politica e dalla politica è passato al diritto e alla giurisprudenza un altro caveat quando si parla dell'internet si tende a utilizzare la maiuscola come se fosse un soggetto o comunque come se fosse un nome proprio non è assolutamente vero partecipando a questo corso di perfezionamento vi avranno detto o saprete già che l'internet è una convenzione cioè l'insieme delle reti informatiche che utilizzano il protocollo TCPIP nulla di più quindi in questo senso non esiste internet come piattaforma esistono delle risorse di rete collegate a reti di telecomunicazioni che comunicano fra loro secondo un determinato standard tradotto se nel vostro studio nella vostra azienda mettete in piedi una rete in protocollo TCPIP senza collegarla da nessuna parte avrete lo stesso una rete internet ma limitata alla segreteria alla sala riunioni e alle sale agli studi dei singoli professionisti l'internet non è assolutamente vero che l'internet sia senza frontiere chiedere per informazioni suonare al Sisi o a Erdogan o in generale tutti quegli esecutivi che hanno la possibilità di spegnere l'infrastruttura di telecomunicazioni nazionali in caso di necessità e nel caso vi fosse sfuggito anche l'Italia fa parte del club perché nel 2019 con la listeria legata attorno alla questione 5G nel decreto 105 venne anche inserito il kill switch cioè il potere del presidente del consiglio di appunto spegnere la rete di telecomunicazioni in caso di emergenza e quindi nella sostanza di isolare l'Italia dal resto del mondo il che porta alla conclusione appunto che l'internet può essere tranquillamente controllata e spenta quindi tutta la retorica basata sull'internet senza frontiere che non è l'edizione telematica di giochi senza frontiere per chi se lo ricorda è soltanto una bella idea un bel sogno romantico ma nei fatti non è mai esistita il che ci porta ad alcuni luoghi comuni la tecnologia è più veloce del diritto non è assolutamente vero non c'è un singolo fatto che non potesse essere già sussunto, regolato, gestito sulla base degli istituti esistenti cyber stalking revenge porn criptovalute tutto quello che vi pare tiratemi fuori quello che volete fino ad ora non ho ancora trovato una manifestazione un epifenomeno che non potesse essere ricondotto all'interno di una di una norma vigente quindi non è vero che la tecnologia è più veloce del diritto ciò che è più lento è il passaggio dalla valutazione politica all'emanazione di una norma ove fosse necessaria ciò che è più lento è la capacità nel caso del penale che è la materia che conosco meglio di altre è la capacità degli investigatori e dei giudicanti di compiere indagini e di emanare provvedimenti in modo tempestivo quando ero piccolo mi sono occupato credo del primo caso di diffamazione online che è stato definitivamente concluso dalla corte di Cassazione dopo appena 20 anni 18 una cosa del genere con un verdetto contraddittorio per cui la Cassazione penale condannò questa persona mentre invece la Cassazione civile avendo la banca che si riteneva diffamata agitoa separatamente mentre la Cassazione civile disse che non c'era diffamazione ora capite bene che attendere oppure il tema dei sequestri di computer adesso se guardate la giurisprudenza recente in materia di sequestri informatici c'è un capitoletto che ho scritto sull'evoluzione della giurisprudenza in questo ambito per un trattato del diritto dell'internet se guardate la giurisprudenza adesso c'è grande florileggio di argomentazioni che dice ah no bisogna sequestrare i dati non serve sequestrare addirittura nemmeno il disco rigido peccato che queste cose le dicevamo vent'anni fa con Alcei con il professore Perri all'epoca e venivamo presi per pazzi ci sono voluti anche qui credo non meno di quindici anni correggimi per Luigi se sbaglio per arrivare ad affermare l'odio allora se abbiamo questa latenza fra l'esistenza il sorgere di un problema e l'elaborazione giurisprudenziale che lo risolve capite bene che c'è qualcosa che non torna il che apro e chiudo la questione ed è l'argomento di una lezione che ho tenuto nel mio corso ieri mattina nel momento in cui il volume delle controversie e l'entità delle controversie diventa così enorme la giurisdizione perde senso e quindi si comincia a creare un sistema o se volete un affidamento su sistemi diversi per la risoluzione dei problemi che però si traducono nell'oversight board di Facebook nelle policy interne delle singole piattaforme che nella sostanza significano rinunciare a una tutela efficace del diritto ma ripeto non possiamo parlare anche di questo la tecnologia crea nuovi soggetti giuridici come nel caso dell'AI questo è un falso storico aggravato e continuato recidivo e infracinquennale specifico che al quale stiamo assistendo in questi anni perché le regole sulla soggettività giuridica non vengono alterate dalla creazione di software che hanno un grado di autonomia maggiore ma che non li rende per questo né senzienti né consapevoli e il fatto che intelligenza non implichi necessariamente soggettività giuridica ve lo chiarisce un esempio che potrà essere una battuta ma che nei fatti spiega molto uno stupido è vivo ha i suoi diritti anche se non è intelligente quindi un software può comportarsi in modo da apparire intelligente ma non per questo diventa soggetto di diritto poi anche qui ci sarebbe da approfondire il tema del rapporto con dell'impatto dell'approccio funzionalista nella definizione dell'AI che nella sua declinazione di sicurezza nazionale se si muove come un terrorista e parla come un terrorista allora è un terrorista se si comporta come un essere se è intelligente come un essere se ha una manifesta intelligenza di tipo umano allora è intelligente questo è l'approccio funzionalista salto su queste altre su queste altre considerazioni se non per concentrarmi sull'ultimo punto abbiamo bisogno di un'etica delle tecnologie è vero ma dal punto di vista giuridico è assolutamente non rilevante perché vi ricordo che la caratteristica di una democrazia occidentale è quella di non avere un'etica pubblica perché l'etica pubblica è una caratteristica delle teocrazie o se volete degli stati che basano come per esempio quelli che aderiscono a una visione del mondo confuciana che basano il rapporto fra stato e cittadino sulla rilevanza dei riti e quindi del conformarsi a precetti di tipo morale piuttosto che invece sul rispetto di regole e